Mi chiamo Valentina, Valentina Falco, vengo dall'Italia, sono venuta qui per sottopormi ad un intervento chirurgico, ovvero la rinoplastica. Ho scelto accuratamente il dottor Samet per fare questo intervento e posso dire di essere davvero felice per il risultato strepitoso che mi ha dato. Lo ringrazio infinitamente. Grazie a tutti.